La crisi vede da cinque anni sempre crescenti necessità di nuovo capitale, che le banche rincorrono di continuo attraverso l'applicazione delle sempre più rigide regole internazionali e con la necessità di sempre ulteriori accantonamenti per far fronte alle sempre nuove perdite di crediti, soprattutto concessi alle imprese. Il bollettino statistico della Banca d'Italia ha indicato che sono addirittura 1.167.000 le imprese, famiglie e persone clienti in sofferenza verso le banche operanti in Italia. È un numero gigantesco di un fenomeno sociale di massa nel quale si evidenzia inoltre che di questi ben 982.000, quasi un milione, hanno debiti in sofferenza per importi inferiori ai 125.000 euro. E quindi ora di dire basta alla ingenerosa e preconcetta demonizzazione che cerca di scaricare ingiustamente sulle banche italiane responsabilità per una crisi economica che viene anche geograficamente da lontano e che insieme è affrontata tutti i giorni da imprese, banche e famiglie.